Perché io sono senza fiato? Ho detto una cosa che non dovevo dire. Bene, i moscerini sono andati. Io sono abituato, io arrivo dalla Lomellina, quindi... Dirigo Acqui, ma arrivo proprio da Lomellina, quindi... I moscerini siamo abituati e anche più umidità, quindi non ci sono problemi. Adesso, sempre di questa... I band di Minor Ferguson con Chatwey. Un altro brano per beat band. A voi, Conquistador. Corpo e Battisti Coquese. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si stanca di più di chi suona. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si stanca di più di chi suona. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Scusate, forse l'unica persona che dirige e si chiede. Forse l'unica persona che dirige e si chiede.